Oggi ho bisogno di vedere Francesca perché mi preoccupa, disse che ha un problema agli occhi, vogliamo farla sedere a riunità? Però prima Paolo ho una prima curiosità, che differenza c'è tra l'ottico e l'oculista? Beh, un po' di differenza c'è, l'ottico è quello che ha pronta gli occhiali, li monta, sa scegliere insieme a voi la montatura, guarda anche l'occhio, ma l'oculista è quello che va dentro l'occhio, vede come funziona, riuscendo con degli strumenti particolari a individuare ogni parte dell'occhio, riesce proprio a vedere l'occhio. Vogliamo sederci lì? Allora, questo strumento che voi vedete è uno strumento fantastico, pensate che ci permette, senza neanche chiedere al paziente di vedere, di leggere, ci permette di dire se questo è un paziente che ha bisogno degli occhiali oppure no. Guardiamolo lì, si riesce a vedere, guardate che cosa riesce a fare questa macchina straordinaria. Questo è un refrattometro, utilizzando un raggio laser riesce, guardate come si muove la pupilla di Francesca, riesce a determinare con attenzione e con precisione se Francesca ha bisogno di occhiali. E come facciamo a capire chi ha bisogno di occhiali o non ha bisogno di occhiali? Beh, una volta che avrà elaborato questa immagine, vedete che sta analizzando prima l'occhio di destra, adesso l'occhio di sinistra, verrà fuori una videata, viene fuori sullo schermo una serie di numeri. Se quei numeri non sono zero, ecco, vedete cosa c'è scritto? 0,25, 0,25, quindi vuol dire che Francesca potrebbe avere bisogno di occhiali. Forse ha ragione, quindi, che non stava tanto bene. Possiamo vedere anche come è disegnato l'occhio di Francesca, perché noi abbiamo anche la possibilità, con questo strumento, di esaminare perfettamente la parte dell'occhio anteriore, quella che è la cornea. Poi ve la farò vedere, vi spiegherò in dettaglio che cos'è la cornea. Guardate, ancora una volta, stiamo facendo un'immagine e ci serve per capire se l'occhio di Francesca è perfettamente sferico, come una palla, oppure se è un po' ovale, come se fosse una palla da rugby, che è un po' diverso. Guardiamo questa immagine. Questo è un esame nuovissimo, si fa da pochi anni, si chiama topografia corneale e ci permette, vedete, di vedere un'immagine costruita come se fosse una mappa, quelle che voi, nelle vostre scuole, vedete come mappe cartografiche, vi dicono i rilievi delle montagne. Guardate che cosa succede. I colori ci spiegano che la sua cornea è un poco più curva, dove vedete il colore verde. straordinario. Io direi però che abbiamo esaminato la parte anteriore dell'occhio di Francesca e grandi problemi, sinceramente, io non ne ho trovato. Vorrei provare a vedere se riusciamo, sempre con un raggio laser, a inquadrare la parte interna dell'occhio, che è una parte straordinaria, si chiama retina. La retina è come se fosse una pellicola su cui le immagini vengono proiettate. E noi siamo in grado oggi, guardando la retina, di vedere il profilo come se avessimo tagliato l'occhio a metà. È una cosa straordinaria. Questo sistema si chiama OCT, Optical Coherence Tomography. È stato inventato sei anni fa, quindi voi state vedendo adesso qualcosa di modernissimo, di straordinario. Guardate, ecco, quella è la retina di Francesca, quella fossettina lì, sapete che cos'è? Quello è il nervo ottico. E forse noi oggi riusciamo anche a vederlo a colori. E voi vedrete che i colori più rossi sono quelli delle fibre nervose, dei cavi elettrici, che portano l'informazione al cervello. Queste fibre più rosse sono quelle che portano più rapidamente l'immagine al cervello. Abbiamo fatto un'analisi adesso, in pochissimi minuti, dell'occhio di Francesca. Devo dirti, Francesca, sinceramente è tutto perfetto, non hai proprio niente.